Ma che cos'è questa puzza di merinciane in Tascala? Che schifo, che puzza di frittura! I ruoli mi stanno finendo! Ma che cos'è? Ma che state cominciando in Natale Dominica? Piera, che sta facendo? Sta freddo il merinciane in Tascala! Ma che cos'è questa moneta? Ma che cos'è questa moneta? No, secondo me tu soffri di problemi di ginecologia, 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 di ginecologia. Ma che cos'è? Allora, se fai questa cucina fuori subito, ma tutta la scala, ma io non lo so che cos'è questa moneta tu. Sta' irrovinando filome e la tarea qui, da se messe un fornellino in Tascala. Ma poi che sei? Ha pezzato tanta scala, si fa, ma qui non è la luce? Onde metti sta la luce? Eh, vergognata che sei! Perché sono arrivato un bosone della scala, luce scala, luce scala, 90 euro arrivò la luce scala! A che carico, a che carico, a che carico! Alla mano subito il suo femmellino, subito! Perché tu picchio, a quel pelino tu picchio! Subito nella mare! Il luogno è finito! Il luogno è finito! Il luogno è finito! Se non ti cacca manco! E posso stendere fuori perché ti sta fiorendo! E stai sannolata che sei! Sì, no, stai sannolata! Aspetta qui! Ora ti faccio sapere lì, figlia mia! Ora ti faccio sapere lì, ora ti faccio passare tutto il suo bambino che hai! Tutte, tutte queste stregge che fai! Ma come si fai? L'ha lavato subito! L'ha lavato subito il suo femmellino! Subito! Ma vedi che cosa? Ma vedi che cosa? E poi ci sono le luogno che non dicono niente nella scala! Non dicono niente! Ma vedi la verità! Un asso! Ma pompa un asso! Ma pompa un asso! La puzza di bilanciare fritte! Ma vedi che cosa? Non ti rischiare più, Piera, lo sai? Ma vedi, ma che cosa? Ah, io sono in affitto e chi è casa tua! Non ti rischiare più! E' più tardi devi pulire tutta la scala! Tutta la scala! Puri i mali ne puzzano le fetture! Degli accati che si fenevano tutte! I cosi della scala fenevano tutte! Anfate l'uoglio! Ma io dico, no, ma io veramente c'è di nascere pazza! Si lo metti! Si, tu rive sempre! Però a te la vita ti passa a rive sempre! Quando arriva la bolletta, la luce la paghi tu! O capiste? Tu stai dicendo chiaro! Sa levare e si aspira la scala! Sa levare e si aspira la scala! Sa tenere solo chissà chi c'è! A cacciare di noi! Io confio! Solo chissà sa tenere! E basta! Quella di giù si deve togliere! Domani chiamo mio nipote, l'elettricista! E fa solo male e si aspira! Canto già pizze tutte cose! Aspirapolvere, tutte cose! Certo! Ci mancava il fornellino! Il fornellino in tal scala ci mancava! No, ma è assurdo! Proprio! Proprio! Futte di tutti i lati! Futte! Futte di tutti i lati! Sei incredibile, sei! Che faiata che è! Andiamo a mettere a vedere se roba in questa lavabiancheria! Andiamo a mettere a vedere se roba in questa lavabiancheria! Ma ti rendi conto? La lavata bianca! La lavata bianca cacciata la lavabiancheria! 3 ore e mezzo! 3 ore e mezzo di macinare! Per il rumore! Eeeh! 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 Ma a vedere che cosa! E' fatta che mi puzzano le fetture! No, è assurdo! È assurdo! Vieni un poco! I miei montane tutte candeggiate! Puzzano! Puzzano! Se io mi metto queste montane, dico io, se tu mi metti queste montane da sotto pare cacciare una melancana! fritta ricorrìa biglacca che è biglacca ma fino a più ma fino a più ma fino a questa scala mi mi chiede di 4 e 5 mi mi chiede